Ormai è la decima, undicesima volta che provo a fare questo video e non ci riesco. Spero che questa sia la volta buona. Ciao ragazzi, come state? Io sono Attila e oggi vorrei parlarvi di un bel po' di cambiamenti di rotta che il Roll and Roll sta avendo in questi ultimi mesi. Lo so, saranno difficili da assorbire, ma ragazzi, cercherò di farlo nella maniera più sincera, più adeguata, più onesta possibile con voi. Come sapete, il canale ha avuto un sacco di cambiamenti in questi ultimi mesi e ne ha avuto di grossi. Siamo passati da un canale dove trattavamo di poche cose come D&D, le classi, come utilizzare le classi, a un podcast dove trattavamo di tantissimi argomenti diversi, filosofia, psicologia, letteratura, sempre collegati comunque al gioco di ruolo. E sapete benissimo quanto io ci tenga e non voglio lasciarvi così dopo un mese o un mese e mezzo senza dirvi nulla. Perché mi sembra brutto, mi sembra veramente ingiusto nei vostri confronti, perché sono stati tanti i cambiamenti e chiaramente non posso finire di parlarvi adesso. Ci siamo lasciati con un routine che veniva chiuso, ci siamo lasciati con un'attila triste che non riusciva più a portare avanti il progetto, che non riusciva più a stare dietro alle mille, mille necessità che la vita gli portava avanti. Ma adesso diciamo che io sono cambiato, che le cose sono diverse e l'idea del progetto stesso è molto più aderente alle necessità che io ho. Infatti il progetto fino ad adesso era un progetto dove io parlavo con voi, dove sempre io ero l'accento di ogni cosa, dove io in ogni modo ero presente, sempre. E questa cosa chiaramente non poteva andare avanti così. Non poteva andare avanti così molto banalmente perché io ho tantissimi impegni, ho la scuola di mezzo, ho... Vabbè, lo sapete ragazzi, ne abbiamo parlato in un altro video, non voglio, non voglio ammorbarvi con queste cose. E quindi di conseguenza il modo migliore in cui possiamo cambiare veramente il canale è chiedendo il vostro aiuto. Quello che vogliamo fare da qui in avanti con Ronorol è un cambiamento di lotta totale. Non ci sarò più io a presidiare la sedia di Ronorol. Al contrario ci saranno tante persone come già Gabriele che collaborava nei primi mesi già al progetto, creando post interessanti, dandomi consigli utili anche da amici, ok? Ma ci saranno ben altre persone a collaborare insieme. Queste persone non ve le posso presentare anche perché non ci sono. E le persone sarete voi che state ascoltando questo video, se volete chiaramente partecipare. Infatti qua in descrizione ho lasciato un link, un link di un modulo Google dove potete applicarvi per diventare dei nuovi collaboratori al canale. Voi siete content creator come me, voi siete video editor, siete anche, che ne so, designer che vogliono occuparsi del lato creativo del canale. Se volete collaborare qua sotto c'è il form. E sono veramente felice di annunciarlo anche insieme a Gabriele perché questa cosa porterà veramente un cambiamento grande, gigantesco al canale e ne sono veramente consapevole. Quindi ragazzi venite, venite veramente a scrivere nel form, venite a dare la vostra applicazione al form così che tutti quanti possiamo collaborare assieme. Ecco e voi vi chiederete adesso, ma ti da tu dove finirai? Hai detto che non ci sarai più a presidiare la poltrona del canale. Io ci sarò sempre, ci sarò sempre e sarò sempre dietro le quinte in qualsiasi caso. Però al contrario non farò più contenuti, io almeno ne farò molti, 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 molti di meno a causa della scuola, a causa dei miei impegni, a causa della mia vita privata in generale. Fatto sta che ci sono due modi in cui potete contattarmi. In primo luogo scrivendomi su Discord, scrivendomi su Instagram, scrivendomi comunque su tutte le piattaforme dove mi avete conosciuto fino ad adesso. Anche nei commenti, comunque cercherò di essere presente, di commentare i video, di esserci in generale. Ma in secondo luogo tramite un altro canale. Un altro canale che abbiamo aperto da poco, un canale che vi lascerò sempre in descrizione, che si chiama con il mio nome Attila Nurki. Dove tratterò di una cosa di cui volevo parlarvi da tantissimo, cioè filosofia. Vorrei iniziare effettivamente a divulgare filosofia da un bel po' di tempo e vorrei veramente farci qualcosa di serio. E quindi di conseguenza ho aperto quel canale, se volete contattarmi là, ragazzi ci sono e ci sarò sempre. Comunque non vi lascerò qua in panciole, ma torniamo a noi, ci siamo ragazzi. Il canale sta cambiando, io veramente spero che questo video vi sia stato utile. Perché veramente se volete partecipare, volete collaborare in questo mondo che è il gioco di ruolo, il migliore modo che potete fare è iscrivendovi al forum. Fate questa cosa, ci salutiamo e alla prossima.